Campo San Martino, agguata al momento della chiusura, una coppia di baristi titolari del bar alla Fortuna a Busiago in Piazza Dante si sono trovati faccia a faccia con i rapinatori mentre stavano calando le serrane del locale ieri sera verso le 9.45. Le vittime, marito e moglie, sono stati minacciati da due banditi con il volto coperto da un passamontagna, entrambi armati di pistola. Si sono fatti consegnare un borsello contenente l'incasso della giornata, circa 2.500 euro, poi a bordo di una Volkswagen Golf sono scappati con il bottino. Sul caso indagano i carabinieri.